Certo, entrare nel Grosseto, nella squadra della mia città è un onore, sono contento anche se non è stato il risultato che ci aspettavamo. Penso che tutti i giocatori che ci sono sono grandi giocatori, quindi tutti possono compensare tutti, quindi non so, magari non so dirti, credo che non tanto abbia influenzato, è capitato così e basta. Io ritengo molto a queste cose, spero che continui questo percorso che sto facendo. È un'emozione grandissima, è l'emozione più grande che io possa avere, anche perché guardo il Grosseto da quando sono piccino e indossare questi colori è proprio un'emozione grandissima.